Ciao, sono Sebastiano Dato. Oggi ti parlo di rapporto con il denaro, come migliorarlo, soprattutto quando ci si vuole realizzare ma ci si sente in colpa per chiedere di essere pagati per il proprio lavoro. E faccio questo video perché è un argomento che a me è molto caro. Io per primo ho dovuto lavorarci, ho fatto attestate con il denaro, con le convinzioni limitanti che mi stavano bloccando e che stavano in me facendo nascere un senso di colpa e quindi alla fine poi ho trovato la chiave che ti condivido per poterlo superare. Secondo motivo perché mi viene spesso richiesto di lavorarci su da parte degli allievi del mio percorso, anche sui social ricevo spesso delle domande come fare per non sentirmi più in difetto, per non sentirmi in colpa, per dare valore al mio lavoro. E poi terzo perché credo che se riesci a scardinare questo non solo sarà per te più facile realizzarti ma sarà anche più facile per te creare valore, perseguire il tuo scopo valoriale rispetto alle persone che ti circondano e rispetto al mondo, al bene che puoi portare e all'impatto che puoi avere sul mondo, sugli altri e sull'ambiente. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutte quelle volte che magari, come una persona con cui ieri ho fatto una prima chiamata, lei è un'operatrice sciazzo, quando propone un massaggio, una sessione di sciazzo a un amico per esempio, non riesce a farsi pagare perché c'è l'amicizia di fondo. Quante volte questo succede? Oppure stiamo parlando di quelle volte quando hai un cliente, un paziente a seconda di quale sia la tua attività e non ci sono dei confini perché quella persona ti ha già pagato magari e allora è come se fosse in diritto di contattarti a tutte le ore del giorno, la notte e si aspetta che tu stia lì. E allora tutto quel tempo che viene utilizzato non perché tu abbia piacere nel farlo ma perché c'è un senso di colpa che ti fa dire quella persona mi ha pagato allora è mio dovere essere qui e rispondere anche facendo quelle cose che non sono da contratto diciamo in questo modo, quindi che vanno oltre il tuo lavoro in quel momento. Oppure prendiamo una terza situazione, quelle volte in cui tutto da contratto eccetera a un certo punto senti come se fosse brutto il fatto che magari ti sei fatta pagare o fatto pagare un po' di più e quindi devi rimetterti un po' in carreggiata con il tuo senso di colpa e fai molto di più rispetto a quello che era stato pattuito o deciso assieme a quella persona con cui stai lavorando. Ora tutto questo può andar bene se lo fai una volta, due volte, se succede con un cliente, se è quell'amico che per una volta va bene ok il massaggio è gratuito eccetera. Però immagina di doverlo fare 10, 15, 20 volte quanto tempo, quante risorse e soprattutto quanto denaro stai perdendo che ha come fine ultimo quella della tua realizzazione e di farlo in modo equilibrato rispetto a quello che è la tua vita. Perché 20 ore in pratica sono quasi due giorni di lavoro, anzi forse sono più di due giorni di lavoro, il che significa che il sabato e la domenica facendo in questo modo sono già impegnati. E allora ti ripeto, questo può andar bene una volta, può andar bene nel momento in cui lo scegli, ma se senti che questo modo di procedere stride, non ti fa star bene e soprattutto sta togliendo tempo e risorse per quello a per cui vorresti realmente investirli, la tua famiglia, i tuoi cari, le cose che hanno anche a che fare con te, il fare del bene alle altre persone e al mondo, allora vuol dire che bisogna rivedere il rapporto col denaro. Ripeto, non è sempre così, magari è una tua scelta ed è una scelta consapevole di fare in questo modo, di mettere in atto uno di questi tre atteggiamenti. Però nel momento in cui ti fa star male, oppure ti mette nelle condizioni di giudicarti, oppure ti mette nelle condizioni di giudicare gli altri che fanno una scelta diversa, allora mi sa che hai bisogno di lavorare proprio su qualche convinzione o sul tuo rapporto stesso con il denaro. Allora, ti dico in che modo io ho superato questo. Una persona a me molto cara, che per me è stata una grande guida, lei, quello che mi ha trasmesso, è stato questo. Avere di più per dare di più. Questo che cosa ha alla base? Ha alla base una ristrutturazione, un reincorniciare quello che è il denaro di per sé e la sua funzione. Noi siamo stati cresciuti, soprattutto in Italia, dove c'è una cultura dove prevale il senso del dover, sottolineo dovere, essere umili, dove prevale l'idea che gli ultimi saranno i primi, anche con una certa radice religiosa, no? L'idea che i beati poveri, ecco, quasi come se il denaro debba essere demonizzato. È brutto, è cattivo. In realtà, con tutto questo, il denaro ha poco a che fare. Il denaro, allora, dobbiamo imparare a fare questo, reincorniciarlo, non come finalità, non come obiettivo ultimo, e allora costruisco tutta la mia vita assolutizzata attorno all'accumulo di ricchezze. Questo no. Faremmo altrimenti come il protagonista di una novella di Verga, Mazzarò, che da abbracciante diventa proprietario terriero, il suo obiettivo ultimo è quello di accumulare tante terre quante sono quelle del re. Perché è l'unico modo per farlo sentire importante, riconosciuto. E poi alla fine però, sul punto di morte, si rende conto di essere stato avido, di essere stato avido emotivamente con le persone, sempre trattato male, e le persone che lavoravano per lui, non aveva amore dagli altri, non aveva un'erede. Tutto quello che gli rimaneva era la sua terra, che provava, ovviamente, in modo fallimentare, a portarsi dietro nell'aldilà non riuscendoci. Allora, questo no. Assolutamente. Quello che però possiamo fare è concepire il denaro come strumento per raggiungere un fine, un obiettivo. E allora, questo mi ha permesso di rivalutare il rapporto con il denaro. E soprattutto, magari questo l'avrai sentito in tanti articoli o libri di libertà finanziaria, con una visione anche olistica, perché no, della vita, vedere il denaro come energia. Allora, l'energia non ha una coscienza, cioè non c'è una coscienza sporca dell'energia. Quindi il denaro in realtà è neutro. Che cos'è che lo rende cattivo o buono? Uso questi due termini così per semplificare. È l'uso che ne viene fatto. È il modo in cui quell'energia viene manovrata, viene manipolata, e viene quindi indirizzata verso un fine. Allora, se fai questa, metti questa nuova cornice, quello che puoi iniziare a fare è subito darti degli obiettivi. Cioè, a quale fine ti serve il denaro come strumento? Quale obiettivo vuoi perseguire? Maggiore libertà. Quindi libertà di investire il tuo tempo, di mettere al centro le persone, per esempio. Quindi inizio a realizzarmi, il denaro mi serve per la mia realizzazione, e per avere tempo per le persone a me care. Stare con i miei figli. Allora, non farti pagare per senso di colpe, eccetera, è un... in sostanza è tempo che togli per stare con i tuoi figli. È tempo che togli per dedicarti a quello che ti fa star bene, che ti appassiona, il tempo per te stesso, che è tutto lecito ed è tutto sacrosanto. Per stare bene. E soprattutto, nel momento in cui stai bene, hai voglia anche di contribuire molto di più con il mondo, di creare ancora più ricchezza, avere di più per dare di più, come mi ha insegnato e come ho fatto mio questo insegnamento. Allora, quello che puoi fare è iniziare a darti un obiettivo in questo senso. Più tempo, più libertà, più energia, maggiore disponibilità, magari, per investire rispetto a quello che è un'opera benefica. Maggiore tempo per fare volontariato. E allora quelle 20 ore che ti poi costringono a lavorare il sabato e la domenica, per esempio, possono essere prese, messe in slot di libertà in cui fai una scelta consapevole di dedicare quel tempo al volontariato, ad aiutare delle persone per una causa che ti sta molto a cuore. Oppure, semplicemente, come ha fatto un mio allievo. Un mio allievo, igienista dentale, ha iniziato a rivalutare il valore che dava al suo lavoro e che quindi iniziava a comunicare anche alle altre persone. E quindi ha iniziato anche a scegliere ogni mese alcune persone che magari in difficoltà economica non si potevano permettere la seduta di igiene dentale, la seduta di igiene orale, quindi a farlo gratuitamente. E la cosa più bella è che poi questo ha avuto un impatto a macchia d'olio perché anche lo studio con cui principalmente lui collabora ha iniziato ad adottare anche questa filosofia. E allora il bene, in questo senso, diventa anche qualcosa che si diffonde, non rimane fino a se stessa, ma diventa sempre più largo e si propaga. E allora le persone che ti dicono ma tu pensi solo a te stesso oppure pensa nel mio lavoro dove c'è anche un aspetto spirituale e molto spesso le persone pensano che proprio perché si parla di spiritualità allora ci debba essere una gratuità a prescindere. Non considerando però il fatto che c'è un tempo, che c'è una formazione, che ci sono degli strumenti, ma soprattutto, ed è questo molto importante, c'è uno spazio dedicato. E allora se mi chiedi ma è il mio amico, però io sento che quando non mi faccio pagare, però io ho dedicato un'ora e mezza del mio tempo, c'è qualcosa che mi sembra di non darmi valore, ma allo stesso tempo è il mio amico. Non lo fare solo per te, ma fallo anche per il tuo amico. Perché è un modo sia per valutare bene, valorizzare meglio il tuo di lavoro e la tua professionalità, ma è anche un modo per trasmettere questo valore a quell'altra persona, forse anche un tuo amico, e soprattutto anche per dare dei confini, perché un conto è trovarsi in mare aperto e non sapersi dove orientare. Un conto invece è trovarsi in una piscina dove sai dove c'è l'acqua più bassa, dove c'è l'acqua più alta, quindi ti sai muovere. Se vuoi uscire sai dove sono le scalette, sai dove è il bordo. Dare dei confini che sono molto chiari, specifici, dettagliati e che arrivano anche all'altra persona. E va da sé. Quante volte, per esempio, nella tua esperienza hai scaricato qualcosa, un videocorso gratuito su internet, oppure ti sei iscritto a quell'evento gratuitamente e poi non sei andato. Non perché quell'evento non fosse di valore o non lo fosse quel videocorso, ma perché avevi bisogno di quei confini per permetterti di dare tu il giusto valore. Il riconoscimento, allora, avviene tramite questo. Va bene il bravo, va bene il grazie, per carità, sono aspetti umani del lavoro, ma quando senti che ti stai nutriendo solo di questo e poi fatichi ad arrivare a fine mese, stai facendo tantissimo sforzo, ma senti che quella strada non sta diventando la tua strada principale, perché c'è questa difficoltà, allora bisogna lavorarci, bisogna andare a lavorare proprio su queste basi. Come il mio allievo, come ti ho raccontato, come un'altra mia allieva, perché proprio nel mettere, lei come social media manager, nel mettere dei confini ai suoi clienti, ha iniziato ad avere molto più tempo per se stessa, ha iniziato a trasmettere meglio il suo valore come lavoro, come professionista, e anche ad avere più clienti, quindi è aumentato anche il suo carico di lavoro. Questo anche per dirti che molto spesso pensiamo che se comunichiamo qualcosa all'altra persona, quanto riguarda sempre il farsi pagare, ci sentiamo in colpa, pensiamo anche che quella scapperà, quella persona, e in realtà invece non è così, perché trasmettiamo meglio il nostro valore. Il passo successivo, dopo aver scelto di farti pagare, sarà quello di farti pagare di più e riuscire a fare questo se senti che c'è quest'altro tassello che scrive. Ma questa è un'altra storia. Fammi sapere con un commento se questi temi ti interessano in modo tale che possa approfondire, magari scrivimi una domanda, possa approfondire ancora di più dei casi più specifici. Lasciami un like così da poter permettere alle altre persone di venire a conoscenza di queste tematiche, di come le trattiamo insieme, in questo canale. E poi sappi che questo è uno dei pilastri portanti del mio percorso, perché quando parliamo di convinzioni, quando parliamo di mindset, parliamo non soltanto di rapporto con il denaro, ma di tutto quello in cui ci identifichiamo e che però va a sabotare la nostra identità come professionisti e la nostra quindi realizzazione. È un percorso di dieci settimane in cui ti accompagno proprio nel tuo sblocco, nell'avere fiducia e sicurezza in te stesso, sicurezza interiore, per poter realizzarti professionalmente, economicamente e in questo modo riequilibrare la tua vita mettendo al centro il tempo, le risorse, le energie per le cose che per te sono importanti. C'è una prima chiamata di 30 minuti in cui comprendiamo se possiamo lavorare insieme, se ti trovi al punto di poter intraprendere questo percorso e in cui ti dico cosa nello specifico ti sta bloccando nel realizzarti, nell'intraprendere questo cammino verso la tua realizzazione. A questa chiamata si accede tramite una candidatura, compila il form che trovi sul sito sebastianodato.it slash percorso in fondo alla pagina e in questo modo accederai alla prima chiamata di svolta. Un abbraccio, alla prossima! Grazie a tutti!